Io qui nell'Eliseo ho un ricordo fondamentale per la mia carriera perché nel 1952-53 io facevo Smir Diakov, il fratello di Carmazzo, giovanissimo, sconosciuto, in una compagnia dove c'erano Memo Benassi, Della Brignone, Gianni Santucci, Enrico Maria Salerno ed è stato l'inizio della mia carriera, l'inizio fortunato ma abbastanza clamoroso, quindi ritornare all'Eliseo per me è un fatto emotivo molto importante.